Tragedia in mare a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, un surfista originario di Presice, Roberto Morciano, 50 anni, ha perso la vita nello specchio d'acqua antistante la spiaggia. A dare l'allarme è stato un amico che con lui aveva raggiunto la zona per uscire col windsurf. Ad un certo punto, mentre era arriva, ha visto la tavola e la vela dell'amico alla deriva, ma di lui nessuna traccia. Preoccupato, ha avvisato la Capitaneria di Porto, che ha immediatamente inviato sul posto uomini e mezzi. Il corpo del surfista è stato recuperato a poche miglia dalla costa. I medici del 118 che arriva hanno attivato tutte le procedure per rianimarlo. Alla fine si sono dovuti arrendere. Per il 50enne, infatti, non c'era più nulla da fare. Gli uomini della Guardia Costiera, coordinati dal Capitano Giacomo Cirillo, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, anche alla luce della testimonianza dell'amico che però era tornato a riva molto prima. Sul posto anche il medico legale Ermene Gildo Colosimo, che ha eseguito una prima ispezione cadaverica. Dai riscontri il decesso sarebbe avvenuto per annegamento. Non escluso che l'uomo sia stato colto da malore mentre cavalcava le onde. A quanto pare però il mare non era particolarmente agitato.